Completano il quintetto anche la numero si fa un po' fatica a vedere Holmes mette i piedi fronte canestro poi fa un bellissimo due punti Pasa che mette la quinta la sesta approccia al vetro Lamenta anche con l'arbitro per un presunto fallo ancora Pasa In questo momento più che Francesca Un attacco dove si è mosso veramente pochissimo la palla Holmes si mette in zero Toffolo che non riesce però a segnare Orsili da tre punti, tripla di Alessandro Orsili E rischia di perdere il pallone Orsili Andre va fino in fondo questa volta, si aiuta con il tabellone Completano il quintetto anche la numero si fa un po' fatica a vedere i numeri Tanto quando sei in aria a prendere la scelta finale Wow, guarda come si è posizionata bene con i piedi Lo scarico per Barberis, metti i piedi a posto con il palleggio Tripla, Beatrice, Barberis Ciavarella, passo in crocio Canestro e fallo Blocco di Andrè e poi ancora lo step back di Tandrassini Wow, wow, wow Il gioco, Laksa approva l'uno contro uno ed eccola qui Per sbloccare il risultato del secondo quarto L'hanno fissata, non l'hanno marcata, hanno cercato di ipnotizzarla Qui intanto Thomas che scappa in contropiede Sotto canestro Andrè però lo step back da tre punti Per Maria Holmes, Carangelo lato opposto per Thomas Tripla Pasa, penetrazione, va fino in fondo Zo Boato qui alla Virtus Segafredo Arena Come il Boato è venuto fuori anche in altre situazioni Ma bisogna assolutamente Un girone molto equilibrato Intanto tripla da parte Parker, wow, che tri In più per la squadra Questa è Obis Andrè E comente sulla spalla di Gustafsson Intanto l'alzata per Holmes che appoggia il vetro Si va a cercare Andrè Si gira e pallone con difficoltà È scesa, invece è scesa Ha giocato fino a qui 22 minuti Me l'ero perso Intanto Thomas appoggia Tre assist di media è comunque ora Sì, sì Sassari ha chiamato pochi time out Se non mi ricordo male intanto E' attrice Sassari Non è che fosse brutto Era impossibile Vado a premiare i punti Delpero Tripla E tutte Ciavarella errore Tip out Da parte di Olbis Andrè Poi contro Piede di Delpero E si va Andiamo a riprovare Gustafsson È il canestro Da parte Nel numero 9 Eline Zandalasini Si ferma Step back Dentro L'avevamo visto Da parte di Delpero Ciavarella Da tre punti Che torna a segnare Dalla lunga distanza Qui Alla fine Termina Con la difesa Di Gustafsson La Fsega Freddo Vitus Polonia Vince E convince Con la difesa E l'ottimo attacco 88 a 52 Contro Banco di Sardegna Sassari Sassari